Ciao Giro! Cosa vuoi? Tu non mi conosci, ma io conosco te. Voglio fare un gioco. Non perdere tempo. Vivere o morire. Non ci posso credere. No. Che è successo? Ciao Giro. Ciao Giro. Sono appena uscito da casa. Corri che sta succedendo qualcosa a casa. Cosa? Immediatamente. Corri. Corri subito. Ah ok. Va bene, arrivo subito. Sì sì. Sì sì, arrivo, arrivo. Ciao Giro, ciao. Ma cos'è successo?